Benvenuti, cari follower, quindi un avviso molto forte e urgente da parte del Centro Europeo per le Tempeste. E avverte con forza del pericolo di temporali che tornano prepotentemente sull'Italia. A partire dalla sera e dalla notte di domani, sabato 29 luglio 2023, fino almeno a domenica. Ma prima di entrare nei dettagli, spero che supportiate questo video con ammirazione. E condividi anche questo avviso con quante più persone possibile, per evitare eventuali danni dovuti al maltempo, quindi tutte le regioni del Nord Italia che sono all'interno del cerchio rosso. Avviso preoccupato di colore rosso scuro, dal rischio temporali forti accompagnati da grandine e piogge molto intense, con rischio allagamenti, e il rischio che si formino nubi lancinanti, a partire da domani sera, sabato, ad intensificare la situazione più da mezzanotte a domenica mattina. Le regioni interessate dall'allerta sono Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Regioni distinte della Liguria, e l'estremo Nord dell'Emilia Romagna. Tutte queste aree all'interno del cerchio rosso devono essere esercitate con la massima cautela, soprattutto le zone di confine con Francia, Svizzera e Austria, nelle prossime 48 ore, a partire da domani sera, sabato, fino almeno a domenica sera, 30 luglio. Finalmente sei in buona salute.